Ciao, oggi per rispondere, in un certo senso, anticipare le richieste che puntualmente arrivano in questo periodo dell'anno, voglio presentarti una novità, una selezione di prodotti must have per affrontare le giornate estive con i migliori alleati. Ho quindi pensato di creare due kit estivi, un kit base e un kit maxi, che troverete super mega scontati fino a fine agosto sul sito. È un modo per ringraziare chi i prodotti li conosce, li usa e li ama, ma è anche un modo per dare la possibilità a chi non ha avuto ancora modo di provarlo e di poterlo fare. I due kit promuovono il benessere della pelle e dei capelli, ho quindi selezionato dei prodotti che vanno bene sulla pelle del corpo, del viso, ma anche come trattamento per la cute e per i capelli. Scommetto che siete curiose e non vedete l'ora di scoprire cosa contengono i due kit. Ebbene, il kit base contiene 5 referenze, mentre il kit maxi contiene le 5 referenze del kit base più altre 3 referenze. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta. Il kit base contiene uno shampoo, il feeder, due oli, l'olio di moringa e l'olio di amla, una maschera viso, il rose glow e l'impacco idratante, coccola per capelli, prodotto meraviglioso styling, la catila. Il kit maxi invece contiene appunto queste 5 referenze che vi ho appena nominato, più il hair elixir, non poteva mancare ovviamente, la trifala glow e anche la polvere di arancia per una coccola lucidante e per combattere appunto il crespo delle giornate oride estive. I kit non sono ideati come hair care routine estiva, ma sono una selezione di prodotti che vanno ad integrare la propria hair care routine in base alle proprie esigenze. I due kit li troverete scontati, il kit base del 40%, quindi invece di 70 euro sarà scontato a 42 euro all'incirca, mentre il kit maxi invece di 105 euro sarà scontato a 52 euro. Ma vediamo perché ho scelto questi prodotti. Partiamo dal rose glow, una maschera viso per contrastare i radicali liberi. È una miscela di polveri preziose, polvere di amla, polvere di arancia, polvere di rosa damascena, polvere di carbone naturale e anche della delicata argilla indiana multanimiti. E visto che ci sono, ti lascio anche una dritta. Prova il rose glow anche come impacco capelli. Ti stupirà! Proseguiamo e soffermiamo questi due oli, l'olio di moringa e l'olio di amla. I miei due oli mai più senza, perché chi li ha provati può solo che confermarlo, anzi vi invito a farlo nei commenti. Ricchi di amminoacidi, di vitamine, di antiossidanti, riescono a sposare l'esigenza di quasi tutte le kiti e delle varie problematiche, a partire da corpora, cute secca, cute grassa, dermatite, psoriasi. Provare per credere! Cider, lo shampoo vegetale per eccellenza, grazie ai suoi mucilagini, riesce a idratare il gusto e allo stesso tempo regale un volume unico. Sono veramente poche le chiome che non lo amano. La catira è l'aleata preziosa dei nostri capelli, regala lucentezza e volume, si può utilizzare sia come impacco, ma anche come prodotto styling e anche come umettante nei nostri impatti, tintori e non. Infine, gli ultimi tre prodotti, che insieme ai cinque che vi ho appena presentato, creano il kit maxi. Partiamo dal Herelivir, che è l'aleato ideale da portare in spiaggia, perché riesce a ripristinare il fiumito lipidico, proteggendo il fusto dalla salsegine e dai raggi solari. La polvere di busto di aranza, come impacco capelli lucidante e anticrespo per capelli profumati a lungo. E infine, il Trifala Glow, novità di quest'anno, che è un impacco altamente antiossidante e rivitalizzante, ideale come impacco capelli, quindi anche sulla cute, ma anche e soprattutto come maschera a viso. Sono veramente comodi da portare anche in vacanza, si presentano in polvere, in confezioni da 100 o 250 ml, nel caso del fiber, ma anche i due oli sono in bocettine da 100 ml, quindi potete tranquillamente portarli con voi anche se dovete fare un viaggio in aereo. Io non mi dilungo oltre su quello che è il loro modo d'uso, perché le sede sul sito sono veramente complete, anche di video tutorial, ma quello che posso fare è darvi delle dritte su come creare delle sinergie e come utilizzare al meglio questi prodotti. Per esempio, vi avevo accenato del fatto che il Rose Glow si può utilizzare tranquillamente anche come impacco capelli, e vi stupirà, mi ripeto, che per caso avete una fede particolarmente secca, vi consiglio di abbinare al Rose Glow la maschera a viso un olio, in piccole quantità, per abbinare anche uno dei due oli, l'olio di Amla oppure l'olio di Moringa. I due oli sul fusto sono fenomenali, sono veramente fantastici perché trovano un'azione idratante, perché limitano l'evaporazione dell'acqua, quindi alla fine giornata ci ritroviamo in fusto meno secco. Gli oli sono fantastici anche sulla pelle inumidità, appunto quando siamo nella doccia, per apportare maggiore idratazione e emicrimento. Il fiber lo possiamo abbinare con la polvere di buccia di arancia, per avere anche un effetto condizionante. Insomma, gli abbinamenti sono davvero tanti. Se avete altri suggerimenti potete lasciarli nei commenti al video e se avete anche dei dubbi vi aspetto sempre nei commenti. Intanto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.